Sono Fabio Rino, titolare dell'omonima farmacia situata in Napoli, in un quartiere storico della nostra città, densamente abitato. La farmacia, pur essendo una farmacia non troppo grande, riesce comunque a gestire una quantità notevole di clienti contemporaneamente. Ci caratterizziamo per avere con i nostri clienti una comunicazione molto aperta e cercare di abbattere quelle che sono le distanze che spesso il banco genera tra il dottore e il paziente. La cosa più bella della professione del farmacista è il riscontro quotidiano che abbiamo da parte dei nostri clienti. Le nostre parole di consiglio sono molto apprezzate e sono quelle che ci danno poi la forza per andare avanti tutti i giorni. Ho scelto BD Rova per la garanzia che mi dava il marchio BD Rova e per la diffusione del prodotto che già era presente nella mia regione. I vantaggi nel cliente finale sono molteplici. Il primo vantaggio sicuramente è che abbiamo più tempo a disposizione per ascoltare i bisogni dei nostri clienti. Il secondo è quello di avere un flusso più snello di persone e quindi diminuire i tempi di attesa nella farmacia. E il terzo è avere la certezza del nostro magazzino e quindi una gestione puntuale ed efficace anche delle scadenze dei nostri prodotti.